Professor Broccolo, io parto da lei perché voglio capire appunto come sta andando questo test per riconoscere le varianti, anche perché adesso mi collegherò a breve con un medico italiano che vive in Sudafrica da 30 anni e voglio capire bene cosa sta accadendo in Sudafrica. Però partiamo dal tema varianti. Professore, si sente? Allora, tema varianti, c'è uno screening che si può fare in Italia, che stiamo iniziando a fare, ci sono vari kit in commercio e possono permettere quindi di catturare le varianti, le tre varianti che conosciamo, cioè la britannica, la brasiliana e la sudafricana. Ora, catturare le varianti non significa però capire come si evolverà il virus, sono due attività diverse, l'attività di screening che devono mettere in atto tutti i laboratori che attualmente fanno i tamponi. Cioè la normalità sarà che io mi faccio un tampone e mi viene detto se ciò è presente il virus nel mio corpo e che variante di virus è presente nel mio corpo, dobbiamo arrivare lì? Sì, mi auguro. Io sto personalmente spingendo molto su questo aspetto perché come le stiamo cercando adesso è veramente troppo poco, è pochissimo. Dobbiamo, ormai la variante inglese è circa il 60%, 50-60% in tutto il territorio italiano. Dobbiamo fermare la variante brasiliana e la sudafricana. Ecco, però si fermi un attimo perché ieri il professor Lefoga con una spiegazione devo dire molto efficace mi ha detto come possiamo spiegare la differenza tra le varianti. Quella inglese è più brava ad entrare nel nostro organismo, cioè è come se avesse trovato un lubrificante per una chiave di accesso e quindi è più contagiosa. Quella sudafricana e quella brasiliana invece sono due varianti che sono create proprio perché noi abbiamo prodotto anticorpi o naturalmente contraendo la malattia o tramite i vaccini e quindi il nostro corpo... Allora, per essere più forte e non fermarsi davanti agli nostri anticorpi il virus si inventa la variante sudafricana e la variante brasiliana e su questo arrivo alla domanda. La domanda è ma questo vuol dire che con i nostri vaccini a disposizione avremo un problema sulle varianti sudafricana e brasiliana perché quella inglese va bene uguale il vaccino. Per le altre e i diversi vaccini. Può darsi che si debba rimodernizzare e ridisegnare il vaccino, i vaccini, perché i vari lavori che sono usciti in questi giorni, tutti molto importanti, dicono tutti la stessa cosa, che gli anticorpi neutralizzanti nel siero dei pazienti che hanno già avuto il Covid o nel siero dei pazienti che si sono stati vaccinati, spuggono alle varianti inglese e brasiliana, scusate, sudafricana e brasiliana. Questo perché la proteina S ha una conformità molto particolare. Se andiamo a vedere la proteina S ha una struttura tridimensionale molto particolare che basta che cambi due aminoacidi, solo due aminoacidi, in punti particolari, eccola bellissima, quella è la proteina S, dove vedete quel ricciolino blu in basso, questo ricciolino blu in basso è dove esattamente si attaccano gli anticorpi. Cioè questo? Esattamente, quello in basso, blu, quel ricciolino lì, è anche detto dominio motivo, il motivo musicale, pensate a un motivo musicale, se cambio due note il motivo musicale può cambiare totalmente e non riconoscerlo, se cambio due note in un altro punto il motivo lo posso fischiettare e riconoscere lo stesso. Ecco, se le note, quelle due note vengono cambiate, dove vedete la parte in basso blu, gli anticorpi neutralizzanti del vaccinato non riconoscono la proteina S e quindi non attaccano il virus, il virus riesce a entrare. E questo è il vero motivo. Guardi, è la prima volta che vedo un'immagine così chiara, devo dire, no? È molto interessante, è un'immagine molto chiara, si capisce molto bene. Tridimensionale, ricordatevi come un motivo musicale o come il calco di una mano sulla sabbia, la mano deve perfettamente ricalcare l'impronta, ecco la mano è l'anticorpo, l'impronta è la proteina che avete visto, S. Se la mano non si incastra perfettamente nel calco, l'anticorpo del vaccino, prodotto dal vaccino, non riconosce il calco della mano e quindi il virus sfugge. Questo è quello che sta accadendo con la variante sudafricana e con la variante brasiliana. Però ci sono altri lavori che dimostrano, attenzione, gli anticorpi non riescono a riconoscere questa proteina della variante, ma i linfociti, che sono le pattuglie della polizia, riconoscono la variante per fortuna. Quindi speriamo che in vivo si possa avere una difesa maggiore rispetto a quella che stiamo vedendo in laboratorio in vitro, perché in vivo abbiamo anche questi linfociti che riconoscono ancora le varianti, che è l'altra parte del sistema immunitario molto importante. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo anche sequenziare il virus per capire le strategie che sta mettendo in atto, cioè per avere la previsione conoscere il nostro nemico, perché se non conosciamo il nostro nemico non ci armiamo nel modo giusto. Modernizziamo e aggiustiamo i vaccini secondo la strategia che sta mettendo in atto il virus. Allora, l'altro giorno...